Per il Santa Maria Cilento, che ritornava al Carrano dopo un mese, il campo amico non si è rivelato fortunato, anzi per i giallorossi, che per l'occasione indossavano la nuova maglia targata Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, è arrivata addirittura la sconfitta per mano del Ragusa, che si è portato a casa ai tre punti in rimonta. La gara, a causa dei violenti nubi fragili sabato, è stata giocata a porte chiuse, su indicazione degli amministratori locali. Parte meglio la squadra del tecnico di Gaetano, che al diciassettesimo passa in vantaggio con una rete del capitano Campanella. Soli altri due minuti e il Ragusa con Vitelli pareggia, ma al ventitreesimo è ancora il Santa Maria a mettere il muso avanti con Bonanno. Il finale della prima frazione vede il Ragusa ribaltare il punteggio al minuto 44 e Cacciola a pareggiare. Dopo tre minuti ancora Vitelli sorprende la retroguardia cilentana e consente a Ragusa di andare a riposo avanti di una rete. Nella ripresa il Santa Maria appare più incisivo e al ventunesimo il solito Tandara porta il match nuovamente in equilibrio. A giudicare dalla prestazione sembrava che la squadra di Di Gaetano potesse anche pensare alla vittoria, invece al novantesimo arriva il più classico dei gol beffa per il Santa Maria. Un tiro cross di Randis termina la sua corsa alle spalle di Grieco. Non c'è più tempo e il Ragusa espugna il Carrano e si regala il terzo posto in condominio con la Vibonese a 20 punti, mentre resta a quota 12 il Santa Maria che mercoledì recupera con il Real Aversa.